29 luglio santa marta virgine walbergatrice del signore in qualunque città o villaggio voi entriate diceva l'uomo dio ai suoi discepoli informatevi chi vi sia che lo meriti e rimanete presso di lui mt 10 11 ora racconta san luca avvenne che siccome essi erano in viaggio e gli stesso entrò in un certo villaggio e una donna di nome marta lo ricevette in casa sua le 10 38 dove cercare un più splendido elogio dove trovare una più sicedura lode della sorella di maddalena che nel raccostamento di questi due testi del santo vangelo questo certo luogo in cui essa fu scelta da gesù per dare a lui un degno asilo questo villaggio dice san bernardo due discorso sull'assunzione è la nostra umile terra sperduta come una borgata oscura nell'immensità dei domini del signore bar 3 24 25 il figlio di dio partito dal cielo andava alla ricerca della pecorella smarrita guidato dall'amore sal 18 mt 18 12 sotto le sembianze della nostra carne di peccato rom 8 3 era venuto in questo mondo che era opera sua e il mondo non l'aveva conosciuto gv 1 10 israele suo popolo non aveva avuto per lui nemmeno una pietra su cui potesse posare il capo mt 8 20 e l'aveva lasciato mendicare nella sua sete l'acqua dai samaritani gv 4 6 7 quanto a noi i riscattati della gentilità che egli andava cercando così attraverso rinunce e fatiche non è forse vero che la sua gratitudine deve essere anche la nostra per colei che si dando l'impopolarità del momento e la persecuzione dell'avvenire volle saldare verso di lui il nostro comune debito il privilegio di marta gloria dunque alla iglia di siome che fedele alle tradizioni di ospitalità dei patriarchi suoi antenati fu benedetta più di loro nell'esercizio di questa nobile virtù quegli antenati della nostra fede sapevano più o meno oscuramente che il desiderato di israele e l'atteso delle genti doveva apparire come un viandante uno straniero sulla terra ger 14 8 9 anzi pellegrini essi stessi d'una patria migliore senza issa dimora gen 18 1 5 23 6 26 28 onoravano il futuro salvatore che si presentava in incognito sotto la loro tenda ebraico 11 8 16 così come noi veneriamo cristo nell'ospite che la sua bontà ci manda mt 35 40 per essi come per noi questa relazione che veniva loro mostrata fra colui che doveva venire e lo straniero che cercava un asilo faceva dell'ospitalità una delle più nobili ancelle della carità più d'una volta la visita di angeli che si prestavano sotto le sembianze umane ai buoni uffici del loro gelo manifestò infatti la compiacenza che ne aveva il cielo ebraico 13 2 ma se è opportuno stimare nel loro giusto valore quelle celesti premure di cui la nostra terra non era degna quanto più in alto si eleva tuttavia il privilegio di marta vera dama e principessa della santa ospitalità dal momento che ne ha posto lo standardo sulla vetta a cui dovettero convergere tutti i secoli dell'attesa e quelli dell'avvenire se fu nobile cosa onorare cristo prima della sua venuta in coloro che da vicino o da lontano ne erano le igure se gesù promette l'eterna e compensa a chiunque gli dà asilo e lo serve nelle sue mistiche membra è certo più grande e merita di più colei che ricevette in persona colui il cui semplice ricordo il solo pensiero dà alla virtù in ogni tempo merito e grandezza e come giovanni supera tutti i profeti le 7 28 per aver mostrato presente il messia che essi annunciavano a distanza così il privilegio di marta che trae la sua eccellenza dalla propria e diretta eccellenza del verbo di dio da lei soccorso nella carne che aveva assunta per salvarci la pone al di sopra di tutti coloro che mai praticarono le opere di misericordia azione e contemplazione se dunque maria ai piedi del signore sceglie per sé la parte migliore lc 10 42 non abbiamo a credere che quella di marta debba essere disprezzata il corpo è un no ma ha parecchie membra e non tutte queste membra hanno lo stesso compito così l'impiego di ciascuno in cristo è diverso secondo la grazia che ha ricevuta sia per profetizzare sia per servire rom 12 47 e l'apostolo esponendo questa diversità della chiamata divina in virtù della grazia che mi è stata data dice raccomando a ciascuno di voi di non voler sapere più del necessario ma tanto che basti secondo la misura di fede che dio ha distribuito a ciascuno i bidem tre o discrezione custode della dottrina come pure madre delle virtù regola di esse benedetto 64 quante perdite nelle anime e talora quanti naufragi tu faresti evitare chiunque dice san gregorio con il suo sempre giusto criterio chiunque si è consacrato interamente a dio deve aver cura di non dedicarsi soltanto alle opere e di tendere anche alle vette della contemplazione tuttavia è di somma importanza su questo punto sapere che vi è una grande varietà di temperamenti spirituali uno che poteva attendere pacicamente alla contemplazione di dio rimarrà schiacciato dalle opere un altro che l'abituale occupazione umana avrebbe mantenuto in una vita onesta si ferisce mortalmente con la spada di una contemplazione che supera le sue forze o per mancanza dell'amore che impedisce al riposo di diventare torpore o per mancanza del timore che protegge dalle illusioni dell'orgoglio e dei sensi l'uomo che desidera essere perfetto deve per questo esercitarsi dapprima nella pianura alla pratica delle virtù per salire quindi più sicuramente sulle vette lasciando in basso ogni impulso dei sensi che non possono far altro se non distogliere le ricerche della mente e ogni immagine i cui contorni non riuscirebbero ad adattarsi alla luce senza contorni che egli brama vedere all'azione dunque il primo tempo alla contemplazione l'ultimo il vangelo loda maria ma marta non vi viene affatto biasimata poiché grandi sono i meriti della vita attiva per quanto migliori siano quelli della contemplazione morav in job v 26 passim la igura della chiesa e se vogliamo penetrare più addentro il mistero delle due sorelle osserviamo che per quanto maria sia la preferita non è già tuttavia nella sua casa né in quella di lazaro il fratello ma nella casa di marta che ci viene mostrato l'uomo dio soggiornare con quelli che ama gesù dice san giovanni amava marta e la sorella di lei maria e lazaro gv 11 5 lazaro figura dei pazienti che la sua misericordiosa onnipotenza chiama ogni giorno dalla morte del peccato alla vita divina maria che si consacra in da questo mondo alle cure dell'eternità e in in e marta nominate qui per la prima come la maggiore del fratello e della sorella misticamente la prima secondo quanto diceva san gregorio ma anche come colei dalla quale l'uno e l'altra dipendono in quella casa la cui amministrazione è affidata alle sue cure chi non riconoscerebbe qui l'immagine perfetta della chiesa in cui nella dedizione di un fraterno amore sotto l'occhio benigno del padre che è nei cieli il ministero attivo presiede al governo di tutti coloro che la grazia conduce a gesù chi non comprenderebbe ancora le preferenze del figlio di dio per quella casa benedetta l'ospitalità che egli vi riceveva per quanto devota gli dava minor sollievo per il suo faticoso cammino che non la visione già perfetta del volto di quella chiesa che l'aveva fatto discendere dal cielo sulla terra l'onore di servire marta aveva dunque già compreso che chiunque è primo deve essere il servo così come il figlio dell'uomo è venuto non per essere servito ma per servire mt 20 26 28 e come più tardi il vicario di gesù si chiamerà servo dei servi di dio ma servendo gesù siccome serviva con lui e per lui il fratello e la sorella chi potrebbe dubitare che più di ogni altro esse entrava a far parte delle promesse dell'uomo dio allora che egli diceva chi mi serve mi segue e dove sarò io i vi sarà anche il mio servo e il padre mio lo onorerà gv 12 26 crediamo forse che in questa circostanza l'emmanuele abbia potuto non tener conto di quella regola così nobile dell'ospitalità antica che creava fra l'ospite e lo straniero una volta ammesso al suo focolare legami pari a quelli del sangue quando al contrario il suo evangelista ci dice che a quanti lo ricevettero diede il diritto di diventare egli di dio i bidemono 12 infatti chiunque lo riceve dichiara egli stesso non riceve soltanto lui ma il padre che lo manda emsi 9 36 la pace promessa ad ogni casa che si fosse mostrata degna di ricevere gli inviati del cielo mt 10 12 13 la pace che non sta senza lo spirito di adozione degli rom 8 15 era discesa su marta con un'abbondanza senza pari l'esuberanza troppo umana che si era palesata dapprima nella sua premurosa sollecitudine era stata per l'uomo dio l'occasione di mostrare la sua divina gelosia per la perfezione di quell'anima così devota e così pura lc 10 41 al sacro contatto la viva natura dell'ospite del re pacico smise quanto la restava di febbrile inquietudine e serva più attiva che mai più accetta di qualunque altra mt 26 6 gv 12 2 attinse dalla sua fede ardente in cristo figlio del dio vivo gv 11 27 l'intelligenza dell'unico necessario e della parte migliore lc 10 42 che doveva un giorno essere anche la sua o quale maestro della vita spirituale quale modello è qui gesù di discrete fermezza di paziente dolcezza di celeste sapienza nella guida delle anime alle vette più sublimi gv 11 betania fino al termine della sua vita mortale secondo il consiglio della stabilità che dava ai suoi lc 10 7 l'uomo dio rimase fedele all'ospitalità di betania è di qui che partì per salvare il mondo nella sua dolorosa passione ed è vicino a betania che lasciando il mondo volle risalire in cielo servita dal signore entrata per sempre in possesso della parte migliore come è bello o marta il tuo posto in cielo infatti colui che serve degnamente acquista un grado elevato dice san paolo e giustamente grande è la sua iducia nella fede di gesù cristo i team 3 13 il servizio che i diaconi di cui parlava l'apostolo compiono per la chiesa tu l'hai compiuto per il suo capo e sposo tu hai ben governato la tua casa i bidem 4 che era l'immagine di quella chiesa amata dal figlio di dio or dunque ci assicura ancora il dottore delle genti dio non è ingiusto e quindi non può dimenticare l'opera tua la carità che hai dimostrata per il suo nome nell'aver servito i santi ebraico 6 10 e il santo dei santi divenuto e li stesso tuo ospite lascia già ben intravedere la tua grandezza quando parlando del servo fedele messo a capo della sua famiglia per dare a ciascuno il cibo al tempo giusto esclama beato quel servo che il padrone tornando troverà a fare il suo dovere in verità vi dico gli darà l'amministrazione di tutti i suoi beni mt 24 46 47 è dunque giunto il momento dell'incontro eterno assisa ormai nella casa di quell'ospite fedele più di ogni altro alle leggi dell'ospitalità tu lo vedi far della sua tavola la tua tavola le 22 30 e cingendosi a sua volta i bianchi servirti come tu avevi servito lui ibidem 12 37 al servizio della chiesa dal seno del tuo riposo proteggi coloro che continuano a curare gli interessi di cristo qua giù nel suo corpo mistico che è tutta la chiesa nelle sue membra affaticate o sofferenti che sono i poveri e gli allitti di ogni space moltiplica e benedici le opere dell'anta ospitalità che il vasto campo della misericordia e della carità veda ancora ai nostri giorni crescere le sue prodigiose messi che nulla abbia a perdersi dell'attività così encomiabile in cui si prodiga lo gelo di tante anime generose e a questo ine o sorella di maria insegna a tutti come tu stessa hai appreso dal signore a porre al di sopra di ogni cosa l'unico necessario a stimare nel suo giusto valore la parte migliore lc 10 38 42 lo stesso giorno commemorazione dei santi martiri un papa e tre martiri la chiesa commemora in questo giorno il papa felice i fratelli martiri simplicio e faustino e la sorella di questi viatrice i due fratelli martiri furono annegati nel tievere nel 304 durante la persecuzione di diocleziano la loro sorella il cui nome si trasformò più tardi in quello di beatrice ne raccolse i corpi e diede ad essi una degna sepoltura poi per i poco dopo strangolata da alcuni pagani e fu sepolta accanto ai fratelli fin dal secolo 4 fu innalzata sulla loro tomba una basilica nel 683 leone secondo trasportò le loro reliquie a santa bibiana attualmente si trovano a santa maria maggiore felice secondo dopo aver compiuto a roma dal 355 al 358 una specie di interinato durante l'esilio del papa liberio fu egli pure schiacciato da roma dopo il ritorno dell'esiliato e morì presso porto nel 365 più tardi lo si è confuso con una martire di nome felice ciò che gli ha appunto meritato il culto di cui gode oggi insieme con santa beatrice e i fratelli orazione fa te ne preghiamo o signore che il popolo cristiano il quale celebra con letizia nel tempo la solennità dei tuoi martiri felice simplicio faustino e beatrice possa così pure goderne nell'eternità e che ottenga la realizzazione di quanto anticipa con i suoi voti